Musica Buonasera, bentrovati in diretta dagli studi di Telebari. In primo piano ancora l'emergenza coronavirus. La Procura di Bari indaga sulla gestione da parte della Regione e Puglia della seconda ondata Covid. Sentiamo. Non ci sono indagati né reati nel fascicolo d'inchiesta che la Procura di Bari ha aperto nei confronti della Regione sulla gestione della seconda ondata di contagi in Puglia. Tra gli accertamenti ci sarebbero le assunzioni del personale sanitario. Soltanto un aspetto del contenuto del fascicolo sul quale la Procura mantiene il massimo riservo. L'inchiesta è coordinata dal procuratore facente funzione Roberto Rossi. Intanto questa mattina è stata eseguita nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari l'autopsia sul corpo della 41enne Antonia Bateangelo di Trani, morta il 19 novembre all'ospedale di Miccoli di Barletta, dove era stata ricoverata sei giorni prima per le complicanze di una polmonite causata da Covid e dove prima di accedere al pronto soccorso avrebbe aspettato diverse ore. Il pubblico ministero di Trani Giovanni Vaira è iscritto nel registro degli indagati. 18 medici sono tutti operatori sanitari che hanno gestito la paziente fino al decesso. Per loro si ipotizza il reato di omicidio colposo. Fra tre mesi l'esito dell'autopsia. La seconda ondata di contagi intanto continua a restituire numeri ancora alti. Oggi 1573 nuovi positivi al virus 510 a Bari, la provincia più colpita. Attenti al rischio contagi in famiglia, l'appello del prefetto Antonella Bellomo. E a causa del contagio Covid di quasi tutti i medici e gli infermieri, una postazione intera del 118, quella che serve l'area di Bitonto, è rimasta scoperta. L'attività è stata temporaneamente sospesa perché solamente un medico e due infermieri non sono risultati positivi al primo giro di tamponi e non era quindi possibile garantire il servizio di sicurezza. La Puglia resta zona arancione. Questo emerge dalle ultime decisioni del Ministero della Salute. Restano però contrastanti i segnali che arrivano dai numeri della epidemia in regione. La Puglia resta arancione. Il Ministero della Salute rivede le classificazioni di cinque regioni, ma tra queste non c'è il tacco dello stivale. Del resto i messaggi che arrivano dai dati continuano a essere contrastanti. Da un lato l'indice RT, crollato con le misure imposte in questo complicato mese di novembre. Dall'altro il tasso di occupazione delle terapie intensive, che continua a essere ben al di sopra dei livelli di guardia, al 44%, con un punto in più rispetto alla media nazionale, e una crescita di quello dei posti Covid in area non critica, salito in una settimana al 50%. I numeri relativi ai pazienti più gravi del resto seguono anche di settimane quelli relativi ai contagi. Un'ulteriore precisazione poi l'ha fatta il Presidente Emiliano, intervenuto via Skype a SkyTG24. La scelta di aprire un modulo per la terapia intensiva in fiera non va vista come un segnale di difficoltà, ha spiegato, ma solo come la volontà di utilizzare meno personale per più posti letto nelle rianimazioni e garantire il più possibile l'assistenza ordinaria, parallelamente a quella dei malati Covid. E si cerca il più possibile di ampliare il numero dei test con l'obbligo imposto. I medici di famiglia però non mancano le polemiche. Il servizio di Roberto Maggi. Una diffida da parte di quattro sigle sindacali alle autorità regionali politiche e sanitarie pugliesi dopo l'imposizione per i medici di assistenza primaria dell'obbligo di effettuare i tamponi antigenici rapidi non si smorza alla polemica sull'esecuzione dei test. Chiediamo che siano poste in essere le misure per garantire che quanto richiesto sia fatto in sicurezza scrivono in una nota inter-sindacale le rappresentanze pugliesi di SMI, SNAMI, SIMET e Funzione Pubblica Medici di CGL. In particolare i sindacati chiedono che siano forniti idonei dispositivi di protezione individuale che vi sia l'effettiva attivazione su tutto il territorio delle USCA. Ma c'è un altro problema. L'oggettiva è in idoneità di molte sedi degli studi medici ad accogliere potenziali positivi Covid perché magari ubicati all'interno di condomini privati. Il rischio di vedere ripetute scene come quelle già verificatesi con alcuni centri analisi è più che concreto. Non a caso i sindacati avevano più volte richiesto di utilizzare locali più idonei messi a disposizione normalmente per la medicina del territorio. Non passi il messaggio che manchi la nostra disponibilità come medici di famiglia e la sintesi del pensiero portato avanti dai sindacati. Chiediamo solo che l'esecuzione dei tamponi avvenga in piena sicurezza. Intanto a Bari la ASD ha allargato il numero di punti drive-thru. Sono 14 quelli attivi contando anche la provincia. L'accesso, lo ricordiamo, avviene solo per prenotazione tramite il Dipartimento di Prevenzione. Più di 500 pagine di documentazione prodotta dalla Direzione Sanitaria del Policlinico di Bari attesterebbero attività di contrasto alla legionella già dal 2018. È quanto si apprende dai difensori dei cinque dirigenti del Policlinico indagati nell'inchiesta della Procura sui quattro decessi per legionella che sarebbero conseguenza, secondo l'accusa, della mancata bonifica della rete idrica. La documentazione è stata prodotta ieri dinanzi al GIP che avrebbe dovuto interrogare gli indagati per decidere sull'interdizione rinviando poi gli interrogatori di una settimana. E siamo alla politica. È partita pochi giorni fa all'undicesima legislatura del Consiglio regionale. La Puglia domani, lista civica che ha sostenuto Raffaele Fitto promette una opposizione serrata ma comunque aperta al dialogo. Ne abbiamo parlato con il capogruppo Paolo Pagliaro. Noi abbiamo sottolineato che auspichiamo una corretta collaborazione tra minoranza e maggioranza. Del tutto evidente che questa è una prerogativa che va costruita in maniera bilaterale. Noi ci poniamo in questi termini, ci auguriamo che non ci sia quell'approccio tipico della maggioranza è quello basato sull'arroganza e sulla voglia di far passare solo e esclusivamente alcune linee programmatiche e alcuni aspetti del governo regionale. Noi ci siamo proposti in questa maniera. Valuteremo chiaramente nel corso delle iniziative che verranno messe in pratica se realmente alle parole anche della Presidente Loredana Capone seguiranno i fatti. Noi siamo ottimisti e speranzosi. Tra l'altro non sono ancora chiarissimi gli equilibri tra maggioranza e opposizione per la questione del Movimento 5 Stelle. Intanto dobbiamo dire che siamo stati l'ultima regione dopo il voto a partire con i lavori e con l'inizio della undicesima legislatura. Quindi questo è un dato che già dovrebbe far riflettere e questo ritardo è stato causato da questa ricerca degli equilibri per la poltrona. Già questo meriterebbe un cenno di censura perché non si può bloccare una regione, l'attività, specie in un momento di questo tipo, per aspettare che i 5 Stelle decidano che cosa vogliono fare da grandi. I temi su cui c'è l'urgenza di diventare operativi sono tanti. Abbiamo parlato per l'appunto, abbiamo accennato alla questione sanitaria in un periodo di emergenza sanitaria. C'è però anche l'agricoltura con i ritardi sul PSR e l'avanzata della Xilella che non si ferma e non attende il Covid. Assolutamente, questa è un'emergenza che ha già messo in ginocchio il mio salento. Ci auguriamo che si possa fermare almeno questa avanzata verso i territori del nord della Puglia e su questo e su altri temi ci sarebbe da lavorare con grande intensità. Sappiamo perfettamente come sono andate le cose col PSR, come sono andate le cose con l'incapacità di gestire i fondi europei. Sono tornati indietro verso regioni più virtuose. I nostri imprenditori agricoli sono in grande difficoltà, sono in attesa di poter fare anche degli investimenti. è chiaro che tutto il ritardo che è stato accumulato e devo dire anche l'incapacità gestionale della scorsa amministrazione va recuperata. E non va bene se ancora non si capisce perfettamente come debba essere strutturato anche l'aspetto degli equilibri all'interno del Consiglio. E cambiamo argomento l'omicidio di Benedetto Petrone questa mattina alla deposizione di una corona di fiori per il 43esimo anniversario della morte del giovane militante. Il coronavirus non cancella il ricordo e così questa mattina in occasione del 43esimo anniversario dell'omicidio di Benedetto Petrone l'amministrazione comunale ha voluto ricordare il giovane militante ucciso da una squadraccia fascista con la deposizione di una corona di fiori in via Benedetto Petrone e in piazza Libertà. Nessun evento pubblico né cerimonie di commemorazione in sua memoria a causa dell'emergenza coronavirus ma nonostante questo il sindaco Antonio De Caro accompagnato dai familiari di Benedetto il prefetto Antonio Bellomo e i rappresentanti del comitato 28 novembre ha sottolineato l'importanza di una data come questa una giornata che rappresenta uno spartiacque nella storia della nostra città. Quel giorno Beni Petrone morì per per mano fascista Benedetto era un ragazzo della città vecchia con i suoi ideali la voglia di vivere, una voglia di riscatto sociale. Oggi nonostante non si possano fare commemorazioni comunque avevamo voluto portare qui una corona di fiori perché dobbiamo ricordare Benedetto Petroni ma se siamo riusciti a convincere anche qualche ragazzo a studiarsi la storia di quei giorni a conoscere la storia di Benedetto ecco, conoscendo il passato possiamo interpretare il presente evitare di commettere gli errori e se abbiamo convinto qualcuno a capire quegli errori sicuramente abbiamo onorato la memoria di questo ragazzo ma abbiamo anche gettato un seme di speranza per il futuro della città di Bari. E sempre questa mattina in occasione del quarantesimo anniversario dell'omicidio dell'appuntato della Polizia di Stato Giuseppe Filippo il sindaco Antonio De Caro è intervenuto assieme al questore Giuseppe Bisogno e alla prefetta Antonella Bellomo alla deposizione di una corona di fiori nell'atrio della questura di Bari Giuseppe Filippo medaglia d'oro al merito civile e vittima del terrorismo fu ucciso lo ricordiamo dal gruppo Prima Linea il 28 novembre del 1980 mentre rientrava a casa dal servizio. Cambiamo argomento il Black Friday il weekend di sconti attira tante persone nei negozi vediamo cosa è accaduto a Bari questa settimana dove nel centro cittadino si sono accese anche le luci di Natale il servizio di Maria Alessia Sforza Nessun concerto spettacolo in programma niente cioccolata calda all'alba del 6 dicembre e non ci saranno i mercatini sulla muraglia e l'aperitivo con la musica il giorno della vigilia sarà un Natale diverso quest'anno a causa delle restrizioni legate all'emergenza coronavirus malaria natalizia inizia già a farsi sentire nella città di Bari e da ieri infatti è partito un vero e proprio countdown tra i baresi il weekend del Black Friday sta riempendo le vie del quadrilatero dello shopping cittadino lunghe file davanti ai negozi anche questa mattina c'è chi infatti approfitta degli sconti per iniziare ad acquistare doni da mettere sotto l'albero acquisti che senza dubbio porteranno un respiro ai commercianti duramente colpiti dalla pandemia uno spirale di luce che arriva contemporaneamente all'illuminazione offerta dalla collaborazione tra il comune di Bari e Amgas accese infatti proprio a partire da ieri sera le luminarie natalizie che illumineranno in particolar modo il centro cittadino dalle luci in via Venezia al filo di led a luce calda che illumina la camminata della muraglia accese anche le luminarie del cammino di San Nicola a Barivecchia composto da 12 parole che esprimono le emozioni e i valori del Natale e ancora luci in corso Vittorio Emanuele sulle palme e sui balconi di Palazzo di Città e della Prefettura e in piazza Mercantile in attesa dell'accensione delle 60.000 luci a led del grande albero di 15 metri in piazza Ferrarese nessuna grande festa per l'occasione è vero ma nonostante tutto la città sarà piena di luce simbolo di speranza e di buon auspicio e adesso vediamo che tempo farà per il fine settimana lo facciamo con il nostro esperto il colonnello Vita Antonio Laricchia siamo già in una fase di peggioramento per una perturbazione annessa a un vottice depressionario che viene dal Mediterraneo o meglio dalla Spagna che ci sta interessando in queste ore ce l'ho coperto con pioggia rovescio e temporale anche di forte intensità qualche inubifragio potrebbe interessare in particolare il Tarantino e le Cese i venti moderati tenderanno a rinforzare da quadranti meridionali con i mari molto agitati le temperature nella media del periodo intorno ai 16 gradi quindi anche domenica sono giornali di tempo veicelmente perturbato da stare ovviamente più in casa che andarsene in giro con le restrizioni che ci stanno interessando la settimana prossima avventura ancora in stabilità lunedì qualche schiarita per martedì poi netto peggioramento siamo praticamente in una fase decisamente da tarda autunno e rimarrattare con qualche addirittura assaggio dal sapore invernale anche per il ponte dell'Immacolato e per questa edizione del telegiornale serale è tutto grazie per averci seguito a tutti un buon proseguimento di serata il meteo è offerto da Oropan buona giornata da Nikos che ho detto un sistema perturbato sul Mediterraneo centrale sarà responsabile domenica ancora di maltempo su parte del centro sud Italia con piogge sparse in particolar modo sul medio basso Adriatico versante Ionico e Sicilia invece il nord è più protetto dall'alta pressione che sarà presente oltre alpe tra Germania Francia e isole britanniche guardate la zona di bassa pressione con piogge temporali che affollano appunto il minimo depressionario in lento movimento verso lo Ionio e la Grecia quindi già entro la serata un netto miglioramento su molte delle nostre regioni in sintesi la mappa della nuvolosità perché ci aiuta a capire come le nubi saranno ancora qui ad affollare i cieli di gran parte della nostra penisola in particolar modo il centro sud e la prossima grafica ce lo conferma con le piogge sulle nostre regioni centro-meridionali medio-basso adriatico un po' tutto il meridione attenzione anche a equazioni temporali di passaggio sulla Sicilia per il nord un po' di variabilità nuvolosità regolare al mattino poi delle schiarite insomma una domenica nel complesso abbastanza tranquilla discreta anzi di bel tempo sulla fascia montuosa tutti i dettagli precisi come sempre li trovate scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo il meteo è offerto da Oropan di Trevi Meteo di Trevi Meteo di Trevi Meteo Grazie a tutti